Ecco l'articolo pubblicato oggi dall'Espresso che fa tremare i palazzi della politica siciliana. Ecco quella frase shock su Lucia Borsellino che il medico personale di Crocetta, Tutino, agli arresti domiciliari per truffa avrebbe detto al telefono al Presidente ma fatta fuori come il padre. L'articolo è firmato da Piero Messina che, ricordiamo per dovere di cronaca, è il giornalista che era capo dell'ufficio stampa della Regione ed è stato licenziato assieme ai colleghi dallo stesso Crocetta dopo il suo insediamento a Palazzo d'Orlean. Per il governatore siciliano che si è autosospeso dalla carica, quella di ieri è stata una giornata nerissima. Nel pomeriggio però l'intervento della Procura di Palermo con il procuratore Francesco Lovoi sceso direttamente in campo per smentire l'esistenza agli atti dell'intercettazione incriminata e riportata nel pezzo di Messina. L'Espresso invece conferma una vicenda che si tinge di giallo, Crocetta si sente vittima di un raggiro e chiede l'intervento della magistratura per fare luce su un caso che potrebbe portare alla caduta dell'attuale governo. Vogliono farmi fuori, ha detto subito dopo le parole del procuratore Lovoi, sono ore determinanti per la maggioranza e la tenuta dell'esecutivo da Roma e vertici nazionali del Partito Democratico pressano per il ritorno alle urne al più presto. La segreteria regionale, alla luce dell'intervento chiarificatore della Procura palermitana che segue le indagini sul medico Tutino, sceglie però la via della prudenza in attesa di nuovi sviluppi. Crocetta oggi si è chiusa in silenzio e dalla sua residenza di Tusa aspetta di conoscere un destino da molti già scritto e segnato. Nel pomeriggio la conferenza stampa del PD.